Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e sul mio canale. Oggi andremo a fare il video che ha come titolo Qual è il tuo destino immediato, diciamo, nell'arco dei 30 giorni. Abbiamo tre varianti, variante 1, variante 2, variante 3. Potete già cominciare a scegliere la variante che più vi piace, che più vi attira. Io intanto volevo prendere da subito la carta dell'oracolo dell'amore. Vediamo, già la andiamo a scegliere per tutte e tre le varianti, questo oracolo. E poi andremo a sviluppare ogni variante. Volevo ricordarvi che sotto il video trovate il link di riferimento al mio secondo canale, a cui vi invito a dare un'occhiata ed eventualmente lasciarmi il vostro nome e data di nascita, qualora voleste un video dedicato. Vi ricordo i miei contatti dove potete chiedermi informazioni per parlare con me. Il link al nuovo social dove potete trovarmi anche lì. E adesso andiamo a prendere una carta per variante 1, una per variante 2 e una per variante 3. Così questa l'abbiamo sistemata. E iniziamo subito con variante numero 1. Vediamo che cosa abbiamo per te variante numero 1. Innanzitutto, prima di prendere la carta oracolo, andiamo a vedere in questi 30 giorni, per te variante numero 1, con che tipo di persone ti andrai a relazionare. Vediamo, andiamo a vedere un pochino con chi interagirai in questi 30 giorni. Allora. Allora, qui innanzitutto parliamo di dei soggetti un pochettino pensierosi, diciamo anche. Ci sono dei soggetti con cui potresti avere a che fare, che sono dei soggetti che non sono propriamente allegri. Vedi, se tu vai a vedere tutte e quattro le figure che sono venute fuori, non c'è nessuno che abbia un sorriso veramente spensierato. E sono dei sorrisi più che altro accennati, ad esempio di questo tipo. Potresti avere a che fare sia con soggetti maschili che con soggetti femminili. Qui mi parla di qualcuno che ama l'avventura, di qualcuno che, diciamo, è molto intrepido nel suo modo di fare. Abbiamo a che fare anche con persone studiose, con persone magari riflessive, e anche con personaggi che sognano un pochettino. Magari, appunto, si sogna l'arrivo di qualcuno in questi 30 giorni. Scusate un attimo che sistemo un attimo l'inquadratura. Ok, ho cercato di sistemare l'inquadratura e anche la luce, così viene meglio anche a me. Allora, dicevamo, qua ci sono diversi soggetti che possono essere sia uomini che donne. Qui abbiamo una sognatrice, un'avventuriera o un avventuriero, un letterato, quantomeno uno studioso, e qualcuno con un mezzo sorriso accennato, con qualcuno che non è, diciamo, molto improntato per l'allegria. Questi sono i personaggi con cui potresti interagire in questi 30 giorni. Vediamo un po' di che cosa andiamo a parlare, o su che cosa andrai a interagire, variante 1, con questi personaggi. Vediamo un po'. Allora, qualcosa che ti rende felice. Qui parla di felicità, parla di felicità, anche se questa felicità non è pienamente accolta da questi soggetti. Qua la luce va e viene. Vediamo. Ok, vediamo così. Allora, qua diciamo, c'è un qualcosa che ti rende felice, un qualcosa che ti rende felice, però non rende felice queste persone. Ecco, perché già queste persone sono un po' musone, come dire, ecco, musone. Qualcosa che ti può rendere felice. C'è un conflitto, infatti, fra te e questa situazione che ti rende felice, e questi soggetti, invece, che non sono pienamente portati alla felicità. Tu sei molto tenera, molto ingenua, hai la bontà dentro, mentre questi soggetti, è come se ti volessero, diciamo, mettere in conflitto, c'è una lotta all'interno di queste persone riguardo ai tuoi confronti. Ecco che la carta ti dice di essere un pochettino prudente, di essere un pochettino più saggia, di avere più giudizio, magari appunto nel fidarti di queste persone. E c'è un intoppo, un imprevisto, una difficoltà, che potrebbe essere provvidenziale. Nel senso che questa situazione che ti rende felice, questa notizia, un qualcosa che arriverà nella tua vita, che ti renderà felice, andrà in conflitto con questi personaggi che purtroppo felici per te non lo sono tanto. Di conseguenza cosa c'è qua? C'è che le carte ti vogliono dire che ci sarà un intoppo con queste persone, ci sarà un intoppo provvidenziale, perché questo intoppo ti dovrebbe far capire di non essere troppo ingenua, di essere un pochettino più prudente e magari di non fidarti. Va bene? Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice la stesa vera e propria. Allora, andiamo a vedere il momento attuale, vediamo cosa c'è nel momento attuale e poi i vari passaggi. Nel momento attuale abbiamo la temperanza. La temperanza è la carta dell'attesa, della pazienza, della moderazione. Infatti, cosa ti dice qui? La carta ti dice di essere prudente, di essere saggio, perciò di essere più moderata, più paziente, non essere troppo impulsiva, troppo impetuosa. Infatti, a contrastare questo tuo dover essere paziente, dover essere più calmo, c'è appunto questa impetuosità, questa cosa di voler fare magari tutto e subito, oppure di voler dire magari le cose tutte e subito. A tuo vantaggio, cosa abbiamo? Abbiamo una chiamata, abbiamo una sorta di avvertimento che è dovuto a questo intoppo, questo intoppo che tu troverai è provvidenziale, perché è un qualcosa che ti viene mandato dall'alto per farti capire di frenarti un pochino. All'origine del problema c'è il nove di coppe. Il nove di coppe è la troppa sicurezza in questo caso. Diciamo che la situazione che si è venuta a creare conflittuale con questo tipo di personaggio è la troppa sicurezza e il troppo fidarsi magari. Le carte che cosa ti consigliano? Ti consigliano di iniziare un qualcosa di nuovo, di iniziare un qualcosa di concreto, ma inizialo per te stessa, senza dare retta agli altri. E poi abbiamo il cinque di denari. Allora, in questo caso il cinque di denari non è una carta propriamente negativa. Le carte ti stanno suggerendo un pochettino di chiuderti in te stessa, nel senso di essere un pochettino più riservata, essere un pochettino magari un po' timida, non essere troppo ingenua, non avere troppa fiducia nelle persone, ma cercare di essere un pochettino più previdente e non fidarti troppo di nessuno. Infatti qua l'esperienza ti deve insegnare a non fidarti troppo delle persone. Devi stare in guardia, devi stare attenta a quello che ti viene detto, perché tutto sembra perfetto, sembra che tutto, diciamo, sia, come dire, che questa situazione, che questa persona sia propensa ad aiutarti, ma invece non lo è. Le carte ti dicono che devi stare in guardia. Questo intoppo che arriverà, perché arriverà un intoppo, sarà provvidenziale per te, perché ti deve far capire che ti devi un attimo frenare. Variante 1. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo dell'amore. Fiamma gemella. Sì, questa persona è proprio la tua fiamma gemella. Il vostro scopo è quello di riunirvi. Penso che la notizia che ti vada a rallegrare, che ti faccia felice dipende da, cioè, sia riferito a un'altra terza parte, un qualcuno che tu rivedi, un qualcuno che tu rincontri e che magari a questo personaggio non è tanto felice di questa riappacificazione o di questa vicinanza. Variante 1. Come sempre, ti aspetto nei commenti, prenditi i miei contatti qualora volessi parlare con me. Io passo a variante 2. Variante numero 2. Eccoci a te. Andiamo a vedere con quali personaggi tu andrai ad interagire in questi 30 giorni. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo per variante numero 2 per te. Vediamo che soggettino abbiamo per variante 2. Allora, vediamo un po'. Vi ricordo che le carte che io ho creato le potete visionare al link che trovate giù in descrizione. Allora, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo qualcuno che tende a controllare gli altri. qualcuno che vuole rimettere a posto una determinata situazione, qualcuno che vuole tutto alla perfezione. Però vedo che c'è un po' di timore, c'è un po' di paura, un po' di tensione con questa persona perché si sta aspettando, si sta aspettando l'arrivo di qualcuno anche se fondamentalmente si dà l'impressione che tutto vada bene, si dà l'impressione che tutto sia sereno, che tutto sia tranquillo. Potrebbe pure essere che tutto si va a rasserenare, cioè che questa situazione di timore e di paura che si sta vivendo in questo momento si vada a rasserenare e a concludere nel momento in cui si riceve questa notizia, si riceve questa notizia che si sta aspettando e magari appunto tutto va in ordine oppure non c'è questo controllo sulla situazione o sulle persone che sono diciamo che sono diciamo menzionate in 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 questa storia. Allora, vediamo un po' di che cosa andiamo a parlare. Allora, vediamo un pochettino vediamo se ne esce qualcuna o le andiamo a prendere noi. ci sono sensi di colpa dentro di te ci sono sensi di colpa variante numero due vediamo un po' ci sono ci saranno anche dei conflitti c'è un terzo incomodo che sia sentimentale lavorativo familiare d'amicizia o personale qua c'è una terza persona c'è ci sarà o c'è stato o c'è un distacco una separazione e una comunicazione allora appunto secondo me qui la situazione è questa ci sono dei sensi di colpa ci sono dei conflitti perché perché si ha timore appunto di venire a sapere questa notizia di questo terzo incomodo di questa terza persona di questa terza parte e di conseguenza un distacco una separazione oppure c'è già un distacco un allontanamento una separazione da qualcuno e appunto questo distacco e questo allontanamento fa pensare che ci sia una terza persona ed ecco che abbiamo dei conflitti abbiamo delle discussioni abbiamo delle cose che dobbiamo mettere in chiaro si sta aspettando appunto però si sta aspettando nella maniera peggiore perché si sta aspettando con tanta ansia con tanto timore e con dei sensi di colpa perché magari si pensa perché non me ne sono accorta prima si poteva parlare di più magari voi ancora ci tenete ecco a questa a questa persona a questa situazione vediamo un po' io penso che già un allontanamento c'è stato e si sta cercando semplicemente di capire il perché c'è stato questo allontanamento e si sta aspettando una comunicazione una comunicazione anche se dal di fuori fate vedere che tutto che tutto va bene allora iniziamo subito e infatti qui abbiamo una persona che siete voi che ancora prova dei sentimenti ancora prova dei sentimenti ancora ci sta male appunto spera magari che non sia che non sia tutto vero ma qua vediamo un po' che cosa abbiamo per questa regina di coppe abbiamo le notizie in arrivo ci sono delle notizie in arrivo che contrastano purtroppo con questa con questa voglia che tutto si possa rimettere a posto ed ecco qua quello che ha il vostro vantaggio è che c'è qualcosa di molto forte fra voi e l'altra parte c'è qualcosa di molto forte però purtroppo c'è questo sospetto di questo allontanamento che ci sia una terza persona però quello che vi fa stare bene è che voi diciamo avete costruito tanto con questa persona avete costruito tanto e sperate che i vostri dubbi e le vostre incertezze siano irreali vediamo un po' che cosa c'è all'origine di questo problema c'è il troppo tenere stretta una situazione o una persona voi diciamo che avete stretto troppo il cappio intorno al collo di questo soggetto e perciò questo soggetto diciamo che è scappato via ci sono delle notizie in arrivo voi sperate che siano delle notizie dei messaggi un pochino diciamo più confortanti però vi posso dire che di stare di fare attenzione a quello che capite perché qua mi fa capire che ci sono delle notizie in arrivo però poi voi li potreste interpretare nel modo sbagliato perché voi in poche parole quello che aspettate è un riavvicinamento voi aspettate un qualcosa di bello ma qua con questo terzo incomodo io non so se ci sarà qualcosa di bello però devo dire che mi esce la carta del sole e la carta del sole potrebbe essere anche potrebbe essere anche l'arrivo di questo di questo personaggio che trasformerà completamente quella che è la situazione attuale allora quello che vi voglio dire è che penso proprio che voi dovreste mettere da parte questa situazione con con questa persona perché qua sì è vero che ci sono dei messaggi che voi sperate però potrebbe essere che anche questi messaggi arrivino questi messaggi diciamo d'amore di emozione di conoscenza ma non dalla persona che sperate arrivano da un'altra da un altro soggetto perché qua mi parla di nuove conoscenze mi parla di trasformazione di cambiamento e perciò potrebbe essere che quello che voi che aspettate da da quest'uomo arrivi da questo perciò siate pronte va bene variante 2 bambini questa situazione potrebbe includere dei bambini qualcuno potrebbe avere degli atteggiamenti infantili ecco potreste essere anche voi non dovete essere infantili e incavonirvi facendo dei capricci su quella persona ma cercate di spaziare e di dare modo anche a chi diciamo potrebbe fare al caso vostro di farsi conoscere variante 2 come sempre se ti va ti aspetto nei commenti prenditi i miei contatti qualora volessi parlare con me e io passo a variante 3 eccoci variante numero 3 mi viene sempre di togliere il segna variante invece deve rimanere sotto sopra la carta allora vediamo un po' con chi avrà che fare la nostra variante 3 nei prossimi 30 giorni vediamo un po' che cosa ci dicono le carte oddio qua c'è qualcuno che vuole urlare qualcosa di nuovo l'attesa allora qui secondo me c'è qualcuno che verrà a scoprire un qualcosa che è nascosto un qualcosa che viene tenuto nascosto un qualcosa che riguarda il passato perché il nostro soggetto si guarda indietro perciò è un qualcosa non di ora ma è un qualcosa del passato voi magari aspettavate una risposta aspettavate un chiarimento però vedo anche molto dolore dentro di voi perché non riuscite ad esternare quello che avete dentro qua mi sa che finalmente questo dolore può venire fuori può essere finalmente espresso è un qualcosa di nascosto ed è un qualcosa che riguarda il vostro passato sicuramente o il passato di questa persona dipende se voi vi rapportate voi alla variante o magari rapportate qualcun altro qua anche qua c'è l'attesa di qualcuno c'è qualcuno che sta pensando come come muoversi allora devi lasciar perdere vi dice la prima carta c'è un'energia maschile c'è una speranza dentro di te cosa vorresti cambiare è il tuo pensiero fisso allora qui la situazione è molto chiara qui voi sapete che vi è stato nascosto qualcosa per tanto tempo vi è stato nascosto qualcosa per tanto tempo voi ne eravate a conoscenza avete aspettato fino alla fine ancora state aspettando che qualcosa cambi avete molto dolore dentro di voi però le carte prima di tutto vi dicono che dovete lasciar perdere lasciate stare questa speranza io sono la prima che pensa alla alla speranza in modo positivo ma dipende anche dai casi dipende anche dai casi perché qui io non vedo purtroppo che che ci sia margine di riuscita perché qua le carte vi dicono cosa vorresti cambiare è il tuo pensiero fisso cerchiamo di scostarci un pochettino da questi pensieri ossessivi perché molte volte qua i pensieri diventano proprio ossessivi e non è non è proprio questo il caso qua c'è un uomo un'energia molto forte maschile che vi ha nascosto una determinata situazione e che purtroppo non c'è margine di riuscita vediamo un po' vedete qui come situazione principale in questo presente c'è molta stanchezza molto affaticamento siete abbastanza stanche ecco che mi riporta alla carta del del grido del dolore qui voi avete messo delle barriere e siete anche molto in difesa con questa persona perché siete veramente veramente stanca secondo me qui è una situazione matrimoniale perché mi esce la carta del papa però qui si parla di una situazione ufficiale all'origine del problema appunto c'è la coppia allora o voi siete l'altra donna o voi siete la persona ufficiale che sta scoprendo uno di tutto in questo in questo momento qua parliamo di matrimonio parliamo di coppia parliamo molto molto di stanchezza le carte che cosa vi dicono vi consigliano sì di chiarire quello che riguarda la situazione sentimentale quello che riguarda la situazione di coppia però qua c'è un'altra persona di mezzo c'è un'altra situazione che è stata tenuta nascosta che è stata tenuta segreta e che voi in questo momento ne eravate consapevoli vi siete sentiti per molto tempo tristi e abbattute vedete qui come le carte parlano qua si parla appunto di questa coppia dell'imperatrice e del re di denari mi sa che qua parliamo di un triangolo perché qui con la carta del papa e la carta del del re di denari mi sa che appunto questo personaggio sia impegnato voi siete state messe da parte per tanto tempo adesso siete un po' stanche e volete gridare proprio al nostro soggetto che non ce la fate più che siete stanca e che non volete più vivere in questa condizione ecco perché il devi lasciar prendere ecco perché il chiodo fisso vediamo il nostro oracolo sentimenti confusi infatti qualcuno ha paura di amare al momento i sentimenti sono confusi c'è bisogno di fare chiarezza c'è bisogno di fare chiarezza ma qua vi dovete mettere proprio a tavolino come si suol dire a tavolino per chiarire quella che è questa situazione che si prolunga da tanto voi da tanto che pensate guardate qui 5 di denari il dolore vedete qua è tanto che voi sapete immagazzinate però non avete mai parlato adesso siete stanche stanche e volete finalmente arrivare alla conclusione volete finalmente prendere una decisione e combattere e non essere più in questa situazione di di bilico più che altro bene variante numero 3 come sempre ti aspetto nei commenti se ti ritrovi o se riconosci qualcuno in questa variante prendi i miei contatti qualora volessi parlare con me privatamente io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video